Buongiorno a tutti e benvenuti al The Most Show di oggi. In questa puntata tenteremo ciò che nessuno aveva mai provato prima. Vedete questo? Vedete questo? Tè di acqua piovane. Pronto? Attento perché se ci beccano è finita. Credo che stiamo freggevo tutta la legge italiana. Non ridere per piacere perché se no ci metto tutto in agitazione. Vieni, 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 vieni. Non c'è niente da rischiare. Abbiamo tratto questa fonte di acqua naturale. Vedete con la grondaia. Proviene... Ah, Mario vuole andare. Sì, sì, vai, ispeziona le guardie. Fai da palo. Grondaie selezionate. Basta così? Sì, dici che può bastare? Dite che può bastare? Sì, sì, sì. Allora torniamo in giro. Non ci hanno visto, non ci hanno visto. Vai, 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 vai. Inquadrami. Togliamoci questi che servivano a non farci vedere. Abbiamo del buon tè. Almeno credo sia tè. L'impiamo. Tutto perché siamo buoni. Gitatina. Potremmo usare anche questo per agitare. Eh sì, è stato pericoloso, ma ce l'abbiamo fatta. Cacchio! 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 Grazie a tutti